allora ragazzi oggi vi insegno a cucinare uno spaghettino tutta l'italiano gli ho messi a bollire 10 minuti di bollitura ho preso una secchiata d'acqua nel reno e l'ho messa a ribollire proprio quando fa la schiumata proprio quando ribolli, lo spaghetto di cotigliano in cima in monte l'ho preso l'hanno fatta cotigliano questo spaghettino, non so se mi spiegherò la sombria fu questi versi, tu vedessi la gente gli scascati sotto tutti morti allora torniamo a noi ecco allora lo spaghetto all'italiana e adesso mi pulisco le mani uno spicchio d'aglio si affetta con la tutella ecco guarda che classe ragazzi guarda che classe come viene affittoso guarda che classe oh che classe hanno una seganza fa affittare allora ora lo buttiamo negli tegame e voi accendevo ecco qua andiamo a rimestagnare poi voi prendete i pomodori pelati ora siccome io ci ho avuto diciamo un'infiammazione ai dito mi è venuto il giradito ma hanno consigliato il dottore di pennello nell'umido io infatti lo lascio qui dentro sempre fra una portata e l'altra lo lascio vedete io ho la mano bella lercia prima ho accarezzato il cane gli ho toccavo la cacca piccana però questo dito mi fa bene da quando ci fu gli impacchi di pomodoro e mi è guarito mi è risergito sì che bruci un pochino i diti però dopo dopo passa tutti gli sciacqui e via e fa bene fa bene provato io ci ho messo anche a piedi a volte e non solo ti dico poi che ci ho messo perché lasciamo fare fa bene anche per l'emorroidi tu ci metti tu ci stai il culo puoi sedere diciamo un'oretta a mollo nella salsa va via tutto emorroidi devo fare più qualsiasi infiammazione e fa buono poi perché il pomodoro da quelle proprietà si vede acidi capito e lei ha l'infiammazione più che tu ce la lascia a mollo dentro a guazzetto diciamo e più che chi ti fa bene alle ferite viva tv ti lea tutto visto e c'è chiusi volterenne io no io uso la sarsina vedete a un po rinfresca rinfresca tutta la butta anche addosso ti fa anche da diodorante diciamo capito ecco e una volta che tu gliene ha rimastato bene vogliene andate a impiattare osso vedete un po d'olio a crudo fa buono poi ecco essenziale una rimastata finale vedete che che spaghettino ragazzi che classe osso che sarsina gli acquistati questi sono i famosi spaghetti alla giradizzo famosi spaghetti di quotidiano e quotidiano fanno gli spaghetti alla giradizzo voilà e la maia la esuma